Per la danza è stato, devo dire, abbastanza folgorante, ho iniziato a danza tardi, ho iniziato a 16 anni, ma è stato proprio un amore a prima vista, mi piaceva questa idea di dedizione, mi piaceva l'idea che il corpo potesse in qualche modo nascondere un segreto, e quindi raccontare o esprimere cose in qualche modo indicibili e non chiare e quando l'ho scoperta per me non ho potuto fare più a meno, è stato proprio un percorso senza interruzioni e ho sperimentato varie forme di danza finché in qualche modo col tempo sono riuscito a trovare delle forme, delle modalità di danza e ho sperimentato che in qualche modo erano più vicine alla mia sensibilità e piano piano ho cominciato in qualche modo a immaginare e a produrre una mia danza personale e a trasmetterla. Mi affascina la capacità non di dire delle cose della danza ma per lo più in qualche modo di evocarle, ho passato sempre la vita osservando gli altri, nel senso mi sono sempre domandato cosa si potesse nascondere dietro magari uno sguardo o un gesto o una modalità di muovere il proprio corpo, percepire il proprio corpo, di assumere delle posture ed è una, come posso dire, è una passione che mi ha sempre, è una cosa che mi ha sempre attratto anche quando per me la danza non esisteva, quindi è proprio una predisposizione naturale e la danza in qualche modo è l'estremizzazione di quella possibilità, con la possibilità di vedere nel corpo dei segreti di chi, insomma, di chi è presente in quel corpo, di chi vive in quel corpo. Non ci può mentire, sicuramente, perché parla, insomma, è un linguaggio unico, è più facile mentire con la parola che con il corpo. Sono sempre stato una persona estremamente timida, estremamente introversa, in realtà in parte lo sono ancora, e spesso, insomma, il rapporto tra pensiero e esposizione linguistica del pensiero è per me un rapporto contorto, spesso, no? E quindi per me la danza è diventata una maniera, un sistema per affrontare anche queste problematiche, nel senso per... È stato un mezzo con cui ho fatto anche un percorso personale di crescita, di crescita, e penso, insomma, che lo possano fare tutti, perché è un mezzo estremamente importante. Molto spesso perdiamo il contatto con il mondo delle sensazioni, il mondo sensoriale, entriamo in una stanza, osserviamo sempre meno il prossimo, il rapporto empatico tende, insomma, a essere sostituito magari da un rapporto telematico, le relazioni diventano sempre di maggiore consumo, con un click, no? In qualche modo. E invece la danza, insomma, richiede un rapporto di avvicinanza, un rapporto... richiede quello sguardo empatico, la danza richiede una grande esposizione da portè del performer e chiede al pubblico lo sforzo di guardare oltre l'apparente, in qualche modo, di sviluppare, chiede di porre attenzione ai dettagli, e lo chiede anche con una certa, insomma, in qualche modo, forza, no? Proprio ti urla di farlo. E quindi, insomma, penso sia veramente, in questo momento, una possibilità meravigliosa lavorare con la danza, sia, vabbè, io lavoro molto con me stesso, ma, insomma, anche in tutti i percorsi di trasmissione, in insegnamento, che sia con professionisti, ma anche con amatori, con gente che semplicemente vuole fare un'esperienza fisica, sensoriale, quindi, non necessariamente persone che vogliono crescere professionalmente. E spesso diventano anche delle esperienze particolarmente rilevanti, perché ti portano a entrare anche, come posso dire, in contatto con una semplicità del gesto, ti impongono di sottrare ancora di più la tua conoscenza legata, non so, ai grandi meccanismi del corpo, no? Ai grandi virtuosismi, per, in qualche modo, affondare, sprofondare in qualcosa di più semplice, di più fragile e di più essenziale, forse. Per quanto riguarda i ragazzi del CIM, incubatore per giovani coreografi, il nostro scopo principale, appunto, non è porsi come una qualità di insegnanti, ma sostenerli in tutti quei processi che possono indurre loro a diventare, in qualche modo, maestri di se stessi, a trovare la loro strada, a perfezionare il loro pensiero. E quindi noi rappresentiamo semplicemente dei veicoli per loro, degli strumenti da utilizzare per trovare la loro personale poetica, che non necessariamente concide con la nostra. Questo, per esempio, per me è stata anche una grandissima esperienza, perché mi ha costretto sempre a sottrarmi ancora maggiormente rispetto alla mia presenza con loro. E quindi trovare quel giusto bilanciamento tra la possibilità di poter fare un dono nei loro confronti, grazie magari a un'esperienza pregressa maggiore, ma nello stesso tempo lasciarli liberi e anche di sbagliare per poi scoprire che magari in quell'errore risiede il primo seme, il primo germoglio di quello che un giorno potrà diventare una loro caratteristica dominante, per esempio. Va, in qualche modo, insomma, è il pensiero che un po' più mi ossessione, in qualche modo, qual è il contributo. Insomma, vivo nel piccolo, ovviamente, quello che faccio come comunque è una forma di responsabilità. Ripeto, anche con la consapevolezza che, insomma, faccio solo il coreografo, no? Però, nello stesso tempo, è una domanda che mi faccio spesso. Qual è il ruolo che la danza può avere in questo momento storico? Perché? Perché fare coreografia? E sicuramente è un po' quello che dicevo, in un momento storico in cui sempre di più perdiamo il contatto con la relazione diretta con l'altro, in cui le nostre relazioni sembrano sempre più telematiche, e quindi creiamo legami e li scegliamo con un click, dove sempre di più diamo meno importanza al rapporto empatico, alla relazione vera col corpo, che spesso cerchiamo di costruire in base a un'immagine che ci viene data e non magari in base a un proprio percepire, un proprio sentire. La danza in questo momento, almeno per me, rappresenta un territorio di libertà in cui possiamo davvero entrare in contatto con noi stessi, davvero possiamo, lavoriamo, davvero il rapporto empatico diventa un elemento essenziale, dove il corpo viene esposto non necessariamente nella sua forza, nel suo vigore, ma anche nella sua fragilità, e dove è un luogo in cui viene richiesto al pubblico di davvero osservare l'altro, veramente dedicare un tempo all'osservazione e allo scambio, un processo in cui sia chi viene guardato e sia chi guarda coesistere in un mondo, in un tempo, grazie all'esistenza di entrambi i poli in qualche modo.